Allora, non potevamo non chiudere se non con Attilio. Io approfitto di questa introduzione per ringraziare Attilio per aver organizzato questa ennesima occasione di crescita, chiamo io, perché non so se chiamarla aggiornamento o formazione. Secondo me è una cosa molto più complessa, ma lo ringrazio anche per quello che ha fatto per noi in questi due anni, in cui per noi è stato estremamente difficile lavorare, gestire. Attilio è sempre stato presente e ci ha aiutato tantissimo e lo ringrazio anche per quello che ha fatto in questi ultimi 30 anni per noi. Sia da un punto di vista di crescita professionale, ma anche per quello che è stato da un punto di vista umano. Per quello che mi riguarda, io ti ringrazio per l'amicizia e per l'affetto che mi hai dimostrato in più occasioni. Grazie. Buongiorno a tutti. Vi porto i saluti della CIP Lombardia che mi onoro di rappresentare e vi ricordo il nostro congresso regionale che si terrà a Como il 25 di giugno e benitito tutti. Ieri sera parlando con Attilio mi ha raccontato una bella cosa, ma intanto ti ringrazio di avermi invitato nella tua grande terra, terra splendida, terra di grandi vini. Ieri ci raccontavi di questi vini sepolti durante la guerra della Cantina Bertani e trovati dopo 50 anni estremamente cresciuti, ancora più buoni e venduti a prezzi stratosferici. E stamattina ho pensato, ma tu sai come quei grandi vini lì, tu più diventi vecchio più diventi bravo. Grazie. Quindi rappresenti la tua terra in pieno. Grazie a voi. Quindi ti do la parola con grande piacere ringraziandoti tanto di avermi voluto qui perché sai per me è un onore straordinario che ti ricordi di me. Grazie. Grazie, grazie a voi. Io non sono il padrone di casa, il padrone di casa siete sostanzialmente voi. E voi state funzionando come gli inibitori del re-uptake della serotonina per me. Vi ringrazio per questo, vi ringrazio per il vostro affetto che ricambio sinceramente. Quando abbiamo fatto il programma con Franco, con Francesco e con Piero, Piero ha detto, beh, tinte tanto tempo che semmai tu accorgi e recuperiamo. E vi assicuro che recupereremo. Alcuni dati, ma non va avanti però. Vediamo se va avanti con... Ah, devo schiacciare lì. Vediamo se va avanti adesso. Perfetto. Allora, neurosviluppo del bambino. Ne ha parlato ieri zoccante. Ma in questo lavoro simpatico, una dottoressa con la mascherina visita il bambino e cerca di evocare con gli occhi il sorriso del bambino e non ci riesce. Avere la risposta del sorriso di un bambino dopo il secondo mese è importantissimo. Ed è considerata una tappa miliare nello sviluppo. Se dopo il terzo mese questo bambino non vi sorride o non ci vede o ha problemi di interazione sociale o ha problemi comunque di comunicazione. Però la pediatra giustamente chiede ai genitori se questo bambino sorride a loro, si tira un po' indietro e gli fa tirar via la mascherina. E il bambino ricambia con un sorriso e allora lei si mette tranquilla. E dice sostanzialmente che i bambini sono interessati, parlo della tante, sono interessati nella bocca. E' importante che questi bambini vedano la bocca, ovviamente quella dei genitori. Problemi comportamentali nei bambini un po' più grandi. Allora l'effetto delle coliche. Si definisce colica il bambino che piange per più di tre ore al giorno, per più di tre giorni a settimana e per più di tre settimane. Allora si pensa che le coliche si autorisolvano ma non è sempre così. E se questo bambino si sveglia frequentemente può avere successivamente, nei mesi successivi, problemi di attenzione. Ma anche può avere problemi nelle funzioni esecutive che sono importanti per imparare nuove abilità e per risolvere i problemi di tutti i giorni. E che cosa hanno visto? Che i bambini che avevano uno score importante per le coliche e che non venivano risolti, uno studio fatto su 86.000 bambini, non su pochi, seguiti fino all'età di 5 anni, quelli che avevano coliche era più probabile che avessero uno score per lo sviluppo un po' più basso. E avevano problemi di internalizzazione, cioè era più probabile che fossero depressi, che fossero ansiosi, che avessero problemi sociali sostanzialmente. Quelli che si svegliavano frequentemente avevano sostanzialmente lo stesso problema e anche quelli che erano difficili da mettere a letto. O quelli che dormivano poco. Allora che cos'è importante? Un bambino a sei mesi deve dormire almeno 15 ore. Dalle 9 alle 11 ore di fila, poi due o tre sonnellini e quindi è importante dormire. Tra l'altro il sonno è l'unica attività sedentaria che non ti fa ingrassare. Quali possono essere i meccanismi? Quando il bambino si sveglia, si svegliano anche i genitori. E allora è abbastanza probabile che il genitore sorrida di meno al bambino. Gli ha rotto tutta la notte e non gli sorride più. È meno probabile che lo prenda meno in braccio e sostanzialmente è meno probabile che abbia un rapporto col bambino inadeguato. Allora quali sono i rapporti adeguati? Cosa dobbiamo insegnare alla mamma? Di dormire quando il bambino dorme. Di accettare l'aiuto degli altri. Franco Paino diceva che i primi nove mesi del bambino sono la gravidanza exotterina. In quel periodo papà deve fare da vice mamma, dopo deve andare a riprendersi sua moglie. Allora accettare l'aiuto degli altri. Prendere cura di se stessa. Prendersi cura della coppia. Ridurre le aspettative. Deve tenersi, siccome deve dormire quando dorme quell'altro, se ha bisogno di bere l'acqua è meglio che se la porti a letto, perché dopo dieci minuti che dorme viene sette e si alza, si sveglia comunque. Adattarsi alla nuova routine, difendere le proprie scelte, prendere il bambino in braccio e sorridere, sorridere a sto bambino. Quale può essere il meccanismo tra le coliche e la compromissione del neurosviluppo? Può esserci una componente genetica, ma è abbastanza probabile che vi sia un effetto sulla neurogenesi e sulla sinaptogenesi legata al dolore, al dispiacere. Altra cosa importante è se un bambino ha problemi di alimentazione, un bambino piccolo, cioè piange dopo il pasto, lo spinge, i problemi che hanno studiato sono sostanzialmente questi, quindi butta via gli alimenti, li sputa o si fa venire il vomito. Ve la faccio molto breve perché il riassunto è questo. Se un bambino ha difficoltà di alimentazione, le probabilità che abbia un ritardo nello sviluppo del neurosviluppo a tre anni sono aumentate. Ovviamente se ha questi problemi qualche volta, il rischio aumenta di due volte. Se li ha sempre, il rischio aumenta di quattro volte. Ma qual è il messaggio che c'è alla base di questo? Che sostanzialmente è più facile identificare il bambino che butta via gli alimenti rispetto al bambino che ha una compromissione del neurosviluppo. Allora il semplice fatto che questo bambino pianti rogne quando è l'ora di mangiare mi deve far porre l'attenzione, è meglio che lo indirizzi a qualcuno che è competente nel neurosviluppo. In adolescenza, Elio scusami, sono uscito alla tua discussione, ma a 74 anni la prostata è quello che è, quindi dovevo scegliere o corre il rischio di fare un dispiacere a Elio o corre il rischio di farmela addosso e dopo gli chiedo scusa. Allora Elio aveva detto che gli adolescenti fumano la cannabis. eccola qua, la cominciano a fumare già alle elementari e vedete che quando arrivi alla fine del liceo il 25% o il 30% di sti qua fuma la cannabis. Perché la fumano? Perché è diventata legale, non sapevo che si poteva coltivare sul poggiolo di casa, comunque non mi metterò a coltivarla comunque. beh, guardate, se da adolescente, se io avesse usato la cannabis da adolescente, alla mia adolescenza ero timidissimo. Sarei sicuramente diventato dipendente dalla cannabis, nessun dubbio. Allora, non mi metterò a coltivarla sul poggiolo. Allora, perché la considerano più sicura rispetto al fumo di sigaretta. In realtà i modelli animali, cosa hanno messo in evidenza? che se uno fuma la cannabis ha problemi a livello della corteccia prefrontale. Ecco, che è la corteccia prefrontale completa sul sviluppo dopo i vent'anni e che probabilmente hanno, possono avere problemi di empatia, non riescono a guardarsi all'interno, non riescono ad essere flessibili, non regolano le emozioni. Sostanzialmente hanno un sacco di problemi proprio legati a questo. E in più può succedere un'altra roba. Fumano la cannabis, giustamente a Elio ha detto che sono problemi respiratori. Se ti vengono problemi respiratori quando c'è il Covid, può succedere questa roba qua. Questi sono 12 ragazzini che sono stati ricoverati, mi pare, in un ospedale americano, non mi ricordo più, che vengono scambiati per affetti. Siamo in piena epidemia. Li scambiano per soggetti, qua nel New Jersey, li scambiano per soggetti. Respirano male, hanno un difetto della coagulazione. Siamo in epoca del Covid, li scambiano per Covid, li mettono addirittura in terapia con l'idrossiclorochina, perché si trovano con una tacca di questa roba qua. E in realtà il danno era indotto dal cannabinolo, che mi dà una fibrosi polmonare, e poi essere scambiato per effetto da SARS. Adesso vi devo fare una confessione. Quando ho letto sto lavoro sul bullismo, allora dico, finalmente sono arrivati alla soluzione del problema. Perché quando noi eravamo piccoli, ma ve l'avevo già raccontato in altri congressi, c'era uno che faceva il bullo con mio cugino, più piccolo, Carlino. Eravamo tutti alla stessa età, ma Carlino era più piccolo, questo qua, della terza media, noi eravamo elementari. Non minava sempre. Cosa abbiamo deciso? Lo aspettiamo fuori dalla parrocchia in cinque, quattro tengono gli arti, e io mi siedo sulla pancia e riempio dei botte. Fine del bullismo. Quando ho letto sto quadro, finalmente ci sono arrivati anche gli americani a strada. Invece qua, litigation, non era minare dei botte quello che fa il bullismo, era denunciare la scuola, perché non ha preso provvedimenti. Allora, che cosa vedono? Vedono che se, era il bullismo omofobico questo, se si fa causa alla scuola, e se si vince la causa, il bullismo in quella scuola si riduce del 23%, è un effetto spreading, perché va anche nelle scuole che sono nell'altro distretto, e il bullismo in quelle scuole si riduce del 24%. Se però perdi la causa, il bullismo aumenta, sia nella scuola dove hai perso la causa, sia nelle cause del distretto. Ho messo qua la figura di questi tre signori, che è la Corte Suprema negli Stati Uniti nel 1950, per introdurvi l'editoriale che accompagna questo lavoro. Questi signori hanno risolto il problema di questa bambina, e questi signori sono stati nominati da Eisenhower, perché viene spontaneo a dire, se c'è una causa, un problema delle cause civili, è stato Kennedy risolto. In realtà Kennedy viene poco dopo, quando tanto viene Eisenhower. Allora, nell'editoriale si dice, si può pensare che il bullismo sia un rito di passaggio, i miei riti di passaggio sono un'altra roba, il sacrificio al sole, che si è visto nell'uomo chiamato cavallo, o il nonno che si porta via il nipotino aborigine e va nel deserto. Quello sono i riti di iniziazione. Il bullismo è una natura che lo fa in gruppo contro uno solo. In realtà il bullismo è diffuso, ha inconsequenze immediate e a lungo termine, colpisce essenzialmente i bambini più deboli, dà disturbi dell'educazione, può dare problemi mentali e può alterare la traiettoria delle persone. Perché ho messo anche Kennedy qua? Perché Kennedy è quello che interviene contro il governatore dell'Alabama e ordina la Guardia Civile di arrestare il governatore, quando il governatore voleva impedire a due studenti neri che avevano vinto la borsa di studio di entrare all'università. Ma che cosa dice questo editoriale? Allora, se faccio la causa intervengo a posteriore, sarebbe molto meglio che la scuola avesse una politica anti-bullismo. E poi l'effetto dipende dall'esito della causa. Se lo perdo, mi sono fatto male da solo. Poi ci vuole tempo e ci vogliono spese. E che cosa ricorda? Ricorda che cosa è successo a Linda Brown, quella in cui il problema è stato non per lei, ma per quelli che assomigliano a risolto da quei tre signori, di quei tre giudici, Linda Brown voleva andare in questa scuola qua, a scuole elementari. Ora che finisca la causa, lei era già al liceo, non è riuscita a entrare in questa scuola. Quindi, sostanzialmente, dipende da ognuno di noi. Questa figura vuole, c'era già. Non bisogna mai mollare. C'era un bellissimo lavoro scritto da un giovane pediatra di Harvard che dice che i medici devono parlare di più. Non devi avere paura di dire le robe giuste, devi parlare assolutamente di più. E quindi dipende sostanzialmente da ognuno di noi. Il livezzamento. Allora, ne ha parlato Pasquale prima. Dove è Pasquale? Grazie Pasquale. Mi commuovo quando vedo i miei cuccioli. Chiamo ancora Cucciolo Enrico, che è il cucciolo più vecchio. Allora, l'introduzione precoce degli alimenti. Questo qua è un lavoro pubblicato il mese scorso sul giornale dell'agiclinica immunologica che dice le robe importanti dell'anno precedente. E dice, se introduco parecchi alimenti durante il livezzamento riduco il rischio delle aciliachie. E vanno a vedere che se introduco gli alimenti tra il quarto e il sesto mese, che è il programma che fanno in Finlandia, che cosa introduco gli alimenti tra il quarto, sesto e l'otto mese. Se non è indispensabile, non evito l'allergene. Vivo in un ambiente naturale. Quando andate a correre in un parco, abbracciate gli alberi. Abbracciate gli alberi. E fate un espirio, un espirio lento. Si modifica la flora intestinale. Riduce il rischio di sbiosi. Non usare antibiotici, a meno che non abbia meningite, ovviamente, a meno che non sia estrettamente necessario. Introdurre l'immunoterapia per alimenti molto precocemente. Che cosa hanno ridotto? In Finlandia con questo programma, hanno ridotto il 50% dei bambini che vanno a scuola che hanno bisogno di fare diete particolare. Se scrinare o non scrinare, ve l'ha già detto Pasquale. Sostanzialmente questo. Eccolo qua. Con Enrico, ieri si parlava. Chi è il professore? Uno. Ed è questo. Il professor Gaburro, che cosa ci ha insegnato? Che tutti i mammiferi vengono divezzati quando raddoppiano il proprio peso. La balena, la zebra, il leone, la tigra. Quando è che il bambino raddoppia il proprio peso? L'altro ieri, Diego, quando ti chiedevo il quarto mese, il quinto mese, mi veniva voglia di aiutarti. Dico, dagli una risposta da democristiano, no? E in mezzo, a quattro mesi e mezzo. E si è a posto. La balena bianca è insegnata da un mammifero anche lei. Il professor Gaburro diceva, vengono quando, tutti i mammiferi si divezzano quando ha quattro mesi e mezzo. Li tolgo il latte materno? Assolutamente no, perché proprio tu, Diego, insieme alla Lidia, avete dimostrato che nel latte materno c'è il TGF-beta che induce tolleranza. Allora, gli faccio vedere l'allergene. Gli lo do insieme a una sostanza che induce tolleranza, presente nel latte materno, e quello diventa tollerante. Se non glielo faccio vedere, non diventa tollerante. Attenti però quando li divezziamo, perché se diamo tanti cereali, li diamo presto, il rischio che diventi ciciotto aumenta dell'80%. Allora, ieri chiedevo a Diego, Diego parlava dei cereali integrali. Esistono farine integrali per il divezzamento? Io non le conosco. Se mangiano tanti cereali, diviene più appetito, perché la glicemia si alza, va bene, poi si abbassa rapidamente, e quando si abbassa rapidamente è che è infame. Andiamo via, va bene, qual è l'effetto? L'effetto protettivo si vede anche se continuano a introdurre alimenti nel secondo anno di vita. La cosa importante da introdurre è lo yogurt, perché ha un effetto, vedete, introdurre lo yogurt riduce praticamente a zero il rischio di avere allergia alimentare. Vado avanti, vado dove? Gli oligoelementi, va bene, lo zinco, ne abbiamo già parlato. L'ipertensione, ve la faccio molto breve, la valutiamo? Non so com'è la situazione in Italia, ma negli Stati Uniti è disastrosa. Sostanzialmente, vedete, su 14.000 bambini, solo su 14.000, nei 26% di quei bambini, nel gruppo di bambini nei quali era stata dimostrata la presenza di ipertensione. Poi, sostanzialmente, non c'è stato nessun follow-up e questo lavoro vi dice come va misurata. Bisogna misurarla due volte, bisogna aspettare cinque minuti. Se c'è ipertensione, bisogna misurarla anche negli arti inferiori. Perché è importante misurarla negli arti inferiori? Perché se nell'arto inferiore ho pressione molto bassa, nell'arto inferiore di solito è più alta, devo pensare a una coartazione aortica. Perché la posso misurare anche nell'arto inferiore? Perché può nascere un bambino fuoco medico, non so dove misurare la pressione. Che cosa è successo? Che solamente il 2% dei bambini avevano tutti rispettati i parametri per valutare la pressione. Il 46% di questi bambini aveva ricevuto suggerimenti per quanto riguarda lo stile di vita, quello che vi aveva detto Eugenio ieri. Sostanzialmente il follow-up di questi bambini è stato scarso. Nessuno ha fatto, per esempio, una valutazione agli ultrasuoni del rene. Adesso inutile che guardiamo. Rischio di trombosi, eccolo qua. Rischio di trombosi sta aumentando. Allora volevo semplicemente, è diventato più frequente negli ultimi anni. Allora quali sono i segni? Quali sono i segni della trombosi degli arti inferiori? Allora ho un dolore pulsante e crampi. L'arto si gonfia, è rosso, è caldo e se lo tocco ha freddo. Bisogna riconoscerlo questo. Qual è il segno di trombosi del seno cerebrale a livello dei segni cerebrali? Hanno mal di testa, la visione si offusca, possono avere perdita di coscienza, possono avere un'alterazione del controllo di alcune zone del corpo, con ulioni e coma. Qual è il segno dell'embolia polmonare? Mi ricordo la prima ragazza che ho visto con l'embolia polmonare. L'ho scambiata per un mato, subito. respirava, questo qua è via di testa, invece aveva un'embolia polmonare. Improvvisamente, segni che compaiono improvviso, Ami l'ha detto stamattina, improvvisamente cominciano a respirare male, hanno dolore toracico, sono ansiosi e hanno tutti questi sintomi, hanno palpitazioni, hanno tosse. Allora, perché è aumentato il trombobolismo? Perché è aumentato nei bambini prematuri che adesso sopravvivono ed è aumentato perché è aumentata l'obesità e perché le ragazzine magari fanno la terapia anticoncezionale. La dieta in gravidanza, allora, l'origine fetale della salute e la malattia, facciamola sempre breve, se la mamma mangia vegetali e yogurt, il bambino non svilupperà allergia. Se invece la mamma durante la gravidanza mangia tanti cereali, mangia carne rossa, beve la spremuta d'arancia invece che mangiarsi l'arancia o pende ai popcorn, il rischio che un bambino diventi allergico aumenta. Allora, la dieta in gravidanza deve essere ricca di alimenti che hanno un effetto antinfiammatorio. E l'effetto, adesso andiamo avanti perché volevo farvi vedere. Ah no, questo invece è interessante. Questa è una cosa, allora, la dieta in gravidanza protegge. Gli stessi autori sono andati a vedere se la dieta in gravidanza protegge anche i bambini che hanno un difetto di filagrina, sono quelli che sviluppano dermatite atopica. Volete riconoscere quello che ha un difetto di filagrina? Non occorre fargli la genetica, basta guardare il palmo della mano, hanno una iperlinearità palmare. Allora, sono andati a vedere il rischio di sviluppare dermatite atopica, asno, respiro sibilante nei bambini che hanno un difetto di filagrina rispetto ai bambini che non hanno difetto di filagrina e che hanno la mamma che mangia tanta frutta e verdura e lo yogurt. E vedete sostanzialmente che in questi bambini il rischio è più alto, aumenta il rischio di dermatite, di asma, di respiro sibilante. Però, se la mamma non fa una dieta opportuna, sostanzialmente questi bambini che hanno la mamma che ha mangiato tante patatine fritte e è andata a junk food un sacco di volte, tutti questi bambini hanno lo stesso rischio di sviluppare malattie allergiche, quindi la genetica è lo stesso dell'epigenetica. Ah, ecco, un segno, alcuni segni di dermatologia. Volevo arrivare rapidamente al rifiuto delle vaccinazioni. Avete un bambino nel quale è sospettante la scabbia, invece, bambino piccolo, non pensa alla dermatite atopica invece può avere la scabbia. Ha il prurito che ci accentua di note e ha in famiglia altre persone che hanno il prurito. Se avete il dermatoscopio potete vedere il cunicolo che fa l'accaro della scabbia e dovete cercare questo segno, questo triangolo che è definito il segno dell'ala dei aeroplani delta. Vedete questo triangolo? È la testa dell'accaro, lo vedi? L'altra cosa ti capita da bambino con questa roba rossa qua nera e il bambino rossa che si tocca il naso si infetta questo è chiamato il segno di Rudolf Rudolf che è la rena del babbo natale che ha il naso rosso. Questa è un'infezione da stafilococco perché è importante riconoscere perché bisogna curarlo perché c'è il rischio che se la lasci lì gli viene una trombosi di seni cavernosi. Questa è anche bella vi do le notizie così se un bambino si ustiona la prima cosa da fare è mettergli l'alto ustionato sotto l'acqua fredda per 20 minuti questo riduce tutti i fenomeni legati a tutti i fenomeni riduce il rischio che sia necessario fare un trappianto riduce il rischio che l'ustione si trasmetta agli strati profondi riduce il rischio di interventi insomma deve essere tenuto lì per 20 minuti lo fanno? Assolutamente no perché hanno fretta di andare in ospedale invece bisogna tenerlo nell'ustione bisogna tenere il bambino sotto l'acqua fredda non il bambino l'arto sotto l'acqua fredda per almeno 20 minuti il fegato grasso anche qua allora nell'adulto il fegato grasso può essere identificato valutando l'oma per me l'oma è sempre stata una roba sa cosa ha detto l'oma in realtà è una roba facilissima perché è il prodotto della glicemia per l'insulinemia diviso per 405 per 22,5 a seconda dei se utilizzate in milligrammi per decilitro o in milimoli quando l'oma è superiore a l'oma normale è 1,6 quando è superiore a 2,6 bisogna cominciare a preoccuparsi allora questi qua sono andati a vedere se invece un altro indice cioè moltiplicare il valore dei trigliceridi per il glucosio e fare il logaritmo e dividerlo per 2 ci dava più informazioni e dicono che se faccio tutte queste robe qua e le correggo per il body maxine ti dicono un sacco di robe che ti dicono che è più affidabile come indice allora in questo caso il fegato grasso viene definito come un alt superiore a 26 nei maschi superiore a 22 nelle femmine allora sono arrivato alle conclusioni molto semplici allora cosa faccio in ambulatorio allora li misuro le GPT primo li misuro l'oma che adesso ho imparato come si fa li misuro la circonferenza addominale se è più meno è più alta la circonferenza addominale normale deve essere meno della metà dell'altezza se è bello il cicciotto è molto probabile che abbia anche il fegato grasso la nefrologia la saltiamo ma la saltiamo volevo andarvi ecco l'ORL le apnee istruttive nel sonno allora devono fare la polisonografia durante il covid non ricoveravano nessuno gli autori australiani no aspetta questa è l'ottite la saltiamo la polisonografia aspetta saltiamo all'ORL sì allora questo qua è l'ultimo diagramma che è uscito per curare la sinusite e hanno messo anche qua l'impiego dei monoclonali allora mi ricordavo di un vecchio lavoro non vecchio l'anno scorso sostanzialmente di un chirurgo che diceva sostanzialmente la prima roba che bisogna fare quando ho un bambino o un adulto con la sinusite è allagare i seni paranasali quando gli lavo il naso e per allagarli ovviamente devo utilizzare le docce nasali la pneumostruttiva del sonno gli australiani hanno messo a punto questo questionario che si basa sul fatto che il genitore filma il bambino nel momento in cui respira male e sostanzialmente rispondono a queste domande il filmato deve durare un'ora deve essere bello illuminato bisogna dire che bisogna vedere la bocca il collo il naso ovviamente il torace e l'addome va bene sostanzialmente devono dare un punteggio se sentono rumori inspiratori da uno a quattro poi devono vedere se ci sono degli eventi ostruttivi cioè il bambino si ferma e dopo tira su tutto di un colpo deve vedere se usano i muscoli accessori del respiro chi vuole questionare lo posso mandare perché l'ho tradotto per i genitori quando è che hanno un respiro paradosso? quando si espande il torace la pancia va in dentro e si respira a bocca aperta o no e se tira indietro la testa in pratica se ha un punteggio meno di 3 sostanzialmente è difficile che abbia un apnea importante se ha un punteggio superiore a 3 è abbastanza probabile che abbia un apnea importante l'ansia e la depressione si può identificare facilmente con due domande allora hai perso interesse le cose che ti piacevano fare ti senti giù di morale se hai un punteggio superiore a 3 questi sono depressi poi bisogna eventualmente andare a vedere se hanno tendenza a suicidarsi la Mara ieri ci raccontava mi raccontava sentivo ieri che ne vede tanti perché quando ha detto sto lavoro come fai a fargli questo scenario se un bambino vuole suicidarsi o no e ci sono delle domande specifiche quello che hanno visto su 95.000 soggetti è che gli adolescenti che hanno uno screening un test positivo per la depressione moderata grave è del 2,4% non stiamo parlando di depressione lieve ma quelli che hanno hanno pensato a suicidarsi sono il 4% più dei depressi perché e questo lavoro dice se vi limitate a fare lo screening quello che vi sembra che abbia problemi psicologici ne perdete sostanzialmente la metà perché la metà di quelli che vogliono suicidarsi sono perché hanno altre malattie e questa è l'ultima poi concludiamo perché dà delle risposte anche a Fernando diceva è importante parlarsi allora come ci approcciamo con i bambini con i genitori che rifiutano le vaccinazioni allora non che rifiutano ma che sono esitanti a vaccinare il loro bambino esitare a vaccinare non è semplicemente voler ritardare o rifiutare è uno stato della mente che rispiede che riflette incertezza indecisione conflitti opposizioni noi abbiamo sempre vorrei far questo ma non vorrei abbiamo questa ambivalenza abbastanza tipica e questo va affrontato andando alle radici socioculturali e psicologiche delle persone allora come dobbiamo approcciarci a questi genitori con un atteggiamento presuntivo piuttosto che partecipativo bisogna partire dicendo la vaccinazione me lo fa appunto dopo bisogna costruire fiducia facendogli vedere che non li giudico facendogli vedere che ho empatia con loro che li rispetto ma che esigo di essere rispettato quello che è importante non è tanto quello che gli dico ma come glielo dico la postura devo stare bello dritto perché se vedo così gli genitori di sopra fanno posso utilizzare delle storie personali io li racconto sempre mio compagno in prima elementare prima elementare eravamo quindi nel 54 che muore per la poliomelite Zardini me lo ricordo ancora mi ricordo anche il funerale Corrado Vassanelli gli aveva fatto il discorso davanti al ponte al ponte che ponte era quello che va in ospedale il mio compagno cosa ha fatto il mio papà quando è arrivato la polio è andato a Londra a comparare il solco io non so neanche come l'ha fatto andare a Londra sono andati in treno non so come ha fatto andare bisogna aumentare i rischi e bisogna fare affidamento al livello educazionale di questi soggetti la cosa importante è che dirgli che non è vero che succede questo serve molto poco perché tutti quelli che non vogliono vaccinarsi sanno che sto signore qua ha scritto che l'MMR ti fa venire l'autismo ma nessuno di questi signori è andato a vedersi quando l'anset ha respinto il suo lavoro allora e non bisogna iniziare una discussione senza sapere dove vogliamo finire dove deve essere molto chiaro dove vogliamo andare a finire allora che cosa è importante nella comunicazione verbale ricordatevi che il 7% dipende dalle parole il 38% dipende dal tono della voce il 55% dipende dal linguaggio corporeo questo è il motivo per il quale quando si scrive un'email siccome nell'email manca tutto il linguaggio non verbale bisogna stare estremamente attenti posso dirgli a uno ma vai ma allora e sorridendo se io scrivo su un'email vabbè che posso mettere le faccette ma insomma allora bisogna utilizzare questa tecnica che è annuncio gli dico il vaccino deve essere fatto una volta che ho annunciato devo dirglielo con decisione comincio a fargli delle domande vedo se hanno dei dubbi se hanno dei dubbi devo riflettere i loro dubbi devo funzionare da specchio e questo funzionare da specchio non vuol dire fare il papagallo basta dirgli due o tre parole in modo tale che capiscano che ho capito quello che mi vogliono dire che comincino a riflettere loro sulle cose poi devo rispondere ai loro problemi ai loro dubbi se non lo so devo dire non lo so e dopo devo consolidare bisogna vaccinarlo solo solo un adulto non sono riuscito a convincere un adulto che non voleva vaccinarsi contro il covid dopo mi racconta come è finita un adulto che proprio tutte le tecniche non funzionavano l'ho guardato e ho detto guardi non mi dispiace che il suo voto valga uno tanto quanto il mio non mi dispiace che il suo voto valga uno tanto quanto quello dei draghi allora l'intervista motivazionale serve a costruire un rapporto sostanzialmente ma questa è la cosa per Enrico allora in che cosa differisce questa tecnica dall'intervista e l'ultima diapositiva dall'intervista motivazionale questa tecnica si supera il fatto di aver sviluppato empatia e si basa su un tipo particolare di conversazione su messaggi non verbali che possono attivare dei processi neurobiologici in entrambi le parti con questi processi neurobiologici durano frazioni di secondo le percepiscono molto di più le femmine rispetto ai maschi una roba vecchia una roba che è stata fuori da decina d'anni fa e il soggetto che ho di fronte diventa passa dalla reattività a essere recettivo ognuno di noi ha il desiderio di appartenere a un gruppo e sfrutti questa percezione quindi questo è importante dal momento che il pediatra è una persona affidabile noi dobbiamo utilizzare in modo corretto queste cose vi ringrazio per la vostra attenzione delle malattie allergiche che mi avete riuscito e non ne posso più questo è stato un bel applauso ma come si dice sempre le elezioni magistrali non si discutono si onorano adesso ci alziamo in piedi e gli facciamo un bel applauso grazie 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 a tutti grazie